Musica 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 No, l'uomo di Cro... No, l'avevo fatto ieri E' il nuovo di Capagnolo E' il nuovo di Capagnolo E' ti fa chiuso il fuoco E' caldo? Si vede a te Jackal, sempre infernato Quando hai te ricordato lui, che ci avevo saputo La chitaria è slash, Marietta A te è arrivata? Oh, Marietta, la chitaria è slash, regà Questo è il tuo style, oggi? Oggi suono così, regà Suono io, poi suono nobili talent, poi disco ensemble Si Si Però la batteria fa i bis presley qua Guarda che gente E' l'uomo di Capagnolo Sì Volevo fare dei palloncini Volevo fare dei palloncini Per fare un po' la festa Però non ce l'ho spermatozoma Allora, allora Oh Hellas Hellas, hellas Ma corri Ciao Sei fortissimo qui eh E' Buzuki Buzuki Sì Guarda qua che c'ha P Lì Vedi? No, io volevo il disco dei Paramore Non mi interessa le vanilla Nell'84 le fattivo queste Quando giocavi a tennis Quando giocavo a tennis con Boris Becker Boris Becker Sì Sì Posso ripacchettarlo con il normale bagaglio e spedirlo Beh Ovviamente c'è chi C'è chi impacchetta C'è chi impacchetta i bagagli Aspettiamo al ragazzo Speriamo che c'è un paquetto Chi impacchetta Ennio Ennio Bagaglio insomma più o meno Stiamo lì. Stiamo là, eh. Io mi muovo un po' di più. Oh, è finito qua. Come la vedi? La vedo che vado in Russia, voglio andare in Russia. Grazie. Grazie, ci vediamo la prossima. Ok, ciao. Dove stiamo? Siamo finalmente in Turchia, ragazzi. A un certo punto ti dico quale sarà la formazione. Carrucetto, no? Qua ci saranno tu. Qua ci saranno Vince e Brian. Qua ci saranno Paris Hilton, Jennifer Lopez. Avvisto Fioretti. Toto Cotugno, digitalestro. Questa adesso? Perché ti spaghi? E ti trovi? Da solo, eh. Non lo so, dai, ci saranno? È un po' di più. È un pochino, ma... Non è vero, ma... E' un mio amico, il nome è John Saku sei una merda, però molto meglio di Kikko E' un mio amico, il nome è John 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 E' un mio amico, il nome è John